Buongiorno a tutti, sono Mario Quain, direttore commerciale Italia di Ronda Design e oggi volevo parlarvi della nuova collezione Tavolini inserita nel catalogo di Attractive 2020. Partiamo dalla serie Axis che consta di 5 dimensioni di tavolini che possono essere aggregati e avere diverse configurazioni. Nello specifico le due dimensioni più piccole sono agevolmente riposizionabili di modo che possono funzionare come satelliti in qualsiasi ambientazione living. Il prodotto è caratterizzato costruttivamente da un inedito profilo della sezione quadra di 8 mm. Questo crea un gioco strutturale leggerissimo e quasi incredibile a livello di manifattura, perché se andiamo a notare le giunzioni, gli angoli, le saldature, difficilmente vi capiterà sul mercato di trovare qualcosa del genere. Dal punto di vista dei materiali la possibilità è di avere il top superiore oltre che in metallo anche in finiture materiche quali ceramica, vetro e legno. Questo ci permette di dare al tavolino una singolare personalità che può andare dal più semplice minimalismo, che potrebbe essere il pezzo realizzato totalmente in metallo, a un pezzo invece decisamente più iconico, o con uno standing molto più elevato se il top di finitura lo vado ad utilizzare con il legno, la ceramica o il vetro. Passiamo al secondo pezzo della collezione che è il tavolino attic, che definirei quasi un tavolino asimmetrico. È caratterizzato sempre da questo life motive che per noi è il profilo quadro e viene proposto in tre dimensioni. Per me la cosa più interessante è puntare l'attenzione sulla versione intermedia che presenta un cassetto. Questo molto spesso viene utilizzato nella zona notte come comodino, tanto che da questo catalogo troverete anche la novità di poterlo avere sia destro che sinistro, quindi diventa l'ideale proprio per la zona notte. Da ultimo, ma non per ultimo, parliamo di Eureka, che io definirei più che un tavolino quasi una scultura. È un incontro tra la purezza del metallo, la decisione del metallo e il calore del legno. C'è una fusione di questi due materiali in un pezzo che è molto compatto di dimensioni, si ricreano due piccoli piani di appoggio a livelli diversi e può essere utilizzato in qualsiasi ambientazione, residenziale, commerciale e per la sua configurazione a me ricorda molto una scultura. Grazie a tutti e volevo sempre ricordarvi, per qualsiasi informazione, dubbio o curiosità, scriveteci all'indirizzo sales.rondadesign.it e mi raccomando, via traffic. Grazie. 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 Grazie.